Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. In A1 verso Roma due chilometri di coda per un mezzo pesante in fiamme al chilometro 292 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sempre verso Roma rallentamenti per perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano. In A12 gode a tratti per lavori in direzione Rosignano tra Sarzana e Carrara e tra Carrara e Versilia. Ed è tutto, buon viaggio!